posso essere sincero con te aspettati il peggio da me non ti sono amico non ti sarò d'aiuto riuscirò a piegarti hai domande a maya joseph bradley l'illustre capo della nostra unità molto lieto piacere signora non è un po giovane per la roba pesante a washington dicono che è un killer voglio subito mettere in chiaro una cosa stiamo spendendo miliardi di dollari e noi siamo ancora lontani dallo sconfiggere il nemico 20 prigionieri hanno riconosciuto abu hamed ma posso prevedere quando farà un'altra telefonata irregolare togli la mano della tasca togliela tu ci credi a questa storia osama bill aden sì come ti sei convinto guarda che sicurezza è un professionista che vuole evitare di essere localizzato ok è un vero esperto sei su una lista e tu sei meglio di tanti altri che se sei sulle loro liste non ti cancellano più c'è il 60 per cento di probabilità che sia lì direi un 60 scarso signore cento per cento che è lì perché la certezza vi fa perdere la testa però il 100 per cento non lo troverete mai di lui non si sa più niente perfino che ci credere la testa e lui